Adesso ti racconto una cosa che non ho mai raccontato, Matteo sta già ridendolo ed è uno dei pochi che la sa. Questo mio capo di allora, che è una persona alla quale io sono rimasto molto affezionato, perché insomma è quello che mi ha dato la più fiducia di tutti, mi rompeva le palle tantissimo, ma al tempo stesso mi voleva bene come un figlio ed era anche uno che sapeva godersi la vita. Un giorno arriva, lui stava a Roma, arriva a Milano da me in ufficio e mi dice prima di venire qui sono passato da Luca, Luca chi? Montezemolo, sai io e Luca siamo amici da tanto tempo e ho comprato questa e mi fa vedere la foto di una Ferrari Scaglietti, nuova di zecca, che aveva appena comprato e mi dice quando superi i 6 milioni te la regalo, te ne regalo una uguale alla mia. 5,980, capito? E non siamo mai andati subito. Cazzo, ma andavo subito fuori a cercarmi 20.000 persone.